Very good indeed Buonasera For the kinks Stratkin shaming mai 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 Anche perchè sarei preso per il culo la vita Io probabilmente A me piacciono le Ragatte Non parliamo di cose che ti piacciono A te grazie mille Artyom Grazie Artyom 30 mesi Artyom Dimmi Abbiamo una partita da caricare Ma ora il Mubot ringrazia in corsivo No non è vero Sì è in corsivo No no è no È in corsivo ti ho detto Dai ti dico di no Grazie incone Vedi che è in corsivo anche È in corsivo Marco è in corsivo Ma da me non è in corsivo ragazzi Marco impara la lettura Si vede che non ho aggiornato Si vede Marco che hai dei Tani Allora Ragazzi abbiamo un ultimo Un salvataggio del 2 febbraio 2021 Allora si Simone Marco sappiamo tutti cosa ti piace Remy 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 Dolce Remy Dolce Remy Metti la mano qua Metti la mano A vedere cammini 16 noni Si Non deve essere in 16 noni È normale No di solito erano più ristrette Con quella merda Che si usa Adesso ci sono molto più Ecco lì 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 brava brava Ragazzi Dello streaming Assolutamente Esatto Esatto Ragazzi for the king Non mi si sta avviando Per quello motivo Io sono molto arrabbiato Perché tu non l'hai ancora avviato E il prossimo l'hai avviato in pre-live Dado perché non sei dentro Marco mi ha invitarco Non si può invitare No scusami Bravo Abbone Ragazzi Io potrei abbandonarmi Nei prossimi giorni Dado Nel senso che parti Il mio avviso alle nuove generazioni Non fumate Allora Non so come ho fatto a scrivere un F Al posto della Pinsponsor Si dicono tutti così Pingu Io ero l'ultimo a dover entrare Alice Ragazzi XD Dovrei avviare forte qui Alice La seconda Marco il primo Si ci mette sempre un po' A avviarsi Eh no ma adesso Non riesco neanche più A eviare No ma adesso non riesco neanche più No ma adesso non riesco a eviare Della Eppe Stavo dicendo Della Eppe Della Eppe Della Eppe Alice Io non so leggere Quindi mi servono più letture Ragazzi Siamo davvero molto triste Che questo portachiave A forma di spada di Artoria Se sia così grande Marco sai quale Adesso Me lo ficco nell'ano No 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 Ma senti parlare del sounding Marco Del sounding No Marco te non fidi sul buchino del pisello Ma tu sei stupido No ma niente di dire Sempre La Eppe concorrente Del Ah Microsoft Cosa è tirata fuori La Microsoft Che bella Ragazzi ma era Era cheddar Il password No era cannella Ma Perché ho cheddar Come password Non ci avrei giocato Qualcun altro Non ho capito Ma che che Cioè Non so chi mette cheddar Come password Appunto E no niente Non ce la fa Cannella Cannella Unica ramella È il posto Se no Lì c'è Lì c'è Lì c'è Lì c'è Lì c'è Lì c'è Talma Ti porto Shift hub Vai su Marco Fai unisci Ti col tasto destro L'ho fatto su di te Grazie Ti ringrazio Grazie Alice Grazie Dato Dato viene Prima di Come ti chiami Su Amici Amici Ma vi stupite Ancora di uno Che scrive Già popone Per non dimenticare Per non dimenticare I gappone Scritto Perché Marco È così forte Perché mi hai avvicinato Al microfono Codice errori di rete No Io Piangere No ma ragazzi La connessione Non è stabile Non so Come le 10 Di una frase romantica Nel occhi Vede il mare Nel braccio Vedo una forza Nel tuo capelli Vedo poco O niente È bellissimo Questo è meglio Di qualsiasi Barzelletta Da Non è una barzelletta È la verità Oh squisci Eccomi Dai dai Allora deve entrare Prima Marco Poi Alice Poi io Mi pare di Sì Vediamo Sì 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 Ci abbiamo messo poco A creare i lobby Si può ricreare tranquillamente Ma perché mi Rampeggia Creazione Avventura Anche a me Anche a me Che non pensavo fosse Una cosa mia Allora ragazzi Io sono Ok sì Marco I Alice II E Ma sta terrificando Tiltato No la maschera di Cthulhu Ma io mi chiamavo Pipino Pipino Quanto fa Si può chiamare il breve La prossima Infatti Sarebbe Stato La stessa cosa Ma non è una grande Merda Ma siamo sicuri Che vogliamo far Stato Fermi E Non l'abbiamo dite E io sono morto Creiamo No 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 Eramo nella grande Merda È vero Ma già Bisogna rifarla Vabbè Salve Ed esci Allora E si diceva Appunto Che Allora Comunque Marco Penso che la mia ex Diceva la stessa cosa Ma concludeva la frase Dicendo che nelle mie mutande Non vedeva nulla Non cruciarti Quindi Anche la mia Anche la mia tranquilla Marco Ahio E Deve essere l'ondata da Chernobyl Delle cataratte Ragazzi È uguale Unicaramelle Cannella Vabbè Basta unirsi Da te Sì Comunque era Era quella impossibile Da perdere Perché eravamo fatta Per sbaglio Modalità Oh l'ho fatta facile Usciamo No no va bene Marco Va bene Facciamo facile Stavamo perdendo In quella pagina Bromano Quanto tempo Ciao Ciao Bromano No ma sarà ieri Eh me lo so perso io Ciao Bromano Bromano spona Con LOL Con For The King E con un altro gioco Che non ho Non mi ricordo mai Che volevo dire io Che non mi ha fatto entrare Neanche a me Non so cosa dirvi amici Ah si la connessione di Twitch Stasera è instabile Quindi a volte vedrete Che farà degli scatti strani Però è normale Mi da B3 Rosso Giallo Verde Giallo Che è la partita Marco me l'hai creata Alla partita Assolutamente non l'hai creata Sì Eh sì C'è il personaggio Mi riesce Sì Ti chiamerà Ma perché sei già entrato Nella creazione del personaggio Marco Ah Merda Ok La rifaccio Scusate Non ho dimenticato Di questo piccolo fatto Nuova partita Faccio Difficoltà Apprendista Quindi Ma fai la facile La facile Una forse se finisce Ok entrate L'ho detto Allora Alice Tu devi capire Che Che l'ha detto Io non ho mai finito Una rana In questo gioco Neanche io Dai Ne avevo fatta una Off live Ed è stata orrenda Perché Ero in due Cioè In due è impossibile Questo gioco È sbilanciatissimo Questo gioco In due Bisogna per forza essere in tre Vuol dire Vuol dire Vuol dire Vuol dire Che è scritto Buonasera Brumano di Perchia No Il senso È un game Era un album fotografico Cos'era un album fotografico E È Boh Nel senso che L'aggava Cioè GFPS Allora io mi chiamo No Ma mi va bene Essere il cacciatore Colore Dei capelli Così Poi Abiti Così Indietro Io mi chiamerò Cannella No non cannella Vuol dire Carmela Madonna ma sei Babbo Natale Ma ti prego Stogliermi la barba Ma guarda No Devi tenere con lo schifo sotto O le mesh O la barba smerdata Ma no Si può dire Che fate Eh Eh No Ok Andate 5FPS Vecchio Ragazzi Non vi preoccupate Dato sarà pronto Allora Se mi fa di nuovo versi Ragazzi Prova a ravviarlo In DirectX 9 Che magari È più leggero Perché quella web Ho visto che in anteprima Slug Non so perché Si può fare come Controllare il bot Ed è come avere tre personaggi Gestiti a due Eh Ok Così è bilanciato Ma se io volessi giocare in due Senza il terzo bot In teoria Se il gioco te lo permette Dovrebbe avere un certo bilanciamento Invece non ce l'ha E no E no Il suo sciato DLC Eh infatti Come va? Oh Per ora bene Per ora bene Per ora bene Si va bene Va bene Sciamano bestia Sbrodolina 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 Bo 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 Cosa? Asciuga Il sole asciuga Sbrodola asciuga Sembra abbastanza apposta Sì no Più che altro Se vedete ogni tanto Bufferare eccetera È Twitch Che stasera con Tim Come al solito Fa danni Non dobbiamo I amicili telecomitale ragazzi Sì ormai hanno Fatta così A buon Natale Non ha fatto niente Come nella vita vera Non esiste Vero papo Natale Ragazzi mi disforzo A me non piacciono Le tue parole terribili Capisce dovresti andare avanti Van? Come cazzo si fa? Run? Ciao Doia Oh ma siamo tantissi Stasera rispetto al solito Di solito For the King Non tirava una sega Perché Siamo noi Se lo portiamo No C'è trovato I tesori Io ho talento Fai gioco No non ce l'ho Sì Che culo Ma io non ho talento Ma io non ho talento Ma scusa Oh No Avevo letto una cosa bannabile Comunque Torcia Oh Forza Che che la forza Il torcione Sì ma fa cacare Il torcione Lo raccolgo per te Questo invece me lo occupante Ma dice io ti odio Molto bene Ma tutto che lo raccolgo per te Doie 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 Il ford del auto No sempre sempre Ho franzo a tira Eh sì Ragazzi io vado a caso Molto bene Ma bisogna andare a dare No no Ho scoperto il posto dell'incanzione Ma io questo No Ah che va di pancia Vai verso Pizzetto Il basso Lasciamolo bene Stiamo verso il basso Verso il basso No verso il basso Dobbiamo andare alla città Sì bisogna fare il giro Perché c'è l'albero E non ci si può passare Ma Guarda Inculatissima Guarda qua Quando la nostra Monte Alice Dei passare il turno Ho fatto Fa Alice Grazie Prego Ma tu non cammini Anche se Se te lo chiedono per favore Ho un leggero dolore Alla caviglia E' senza renne Babbo Natale Senza renne Babbo Natale E' senza renne No Dialisi Ah Babbo Natale Che non esiste Di magia Ma non vede in cazzo Marco Mi esplichi cosa vende Marco Mi piacerebbe Talismano del fulmine 25% danni contro fulmine E sei immun all'elettricità Poi Un per cento Danni No Più uno di danni fisici E 4% Probabilità di critico Che potrebbe esservi utile Talismano ardente Che è la stessa cosa Dico del fulmine Ma contro l'ardente Io mi prendo questo Però sai Ragazzi voi vi state persi La live di crash oggi Ma Io sono tentato A dropparlo Non ce la faccio No Però le pazze Pazzissime Troppo 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 esagerata Così difficile Voglio Let's go Let's go Ragazzi ma tutti si muovono Tranne me che non ho i piedi Non hai le renne Non ho le renne No Marco è di livello 1 Sto cosa che fai Dici non ci facciamo No di livello 0 Ragazzi ho fatto un errore evidentemente Eh sì Marco Beh dai 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 Fattibile Vedi Sei fortissimo Allora Chi Allora no Lui L'info serve quello per forza Tipo tutto perfetto Allora esatto Quindi Lui E li mettiamo I soldi Queste Vedi Vedi Adesso noi Lui mi ramè Vedi mincula I danari E lui invece Mincula la vita Non abbiamo Cazzi Sì no Ce l'abbiamo Alto Faccio quattro E A chi mi sono Posso far quella d'aria Vai Io ti incoraggio E tu fai Oh lì Mimino È incazzato Babbo Natale Oh Ma perché Chi ha nicolato le renne Quindi Alla Sì Ma vabbè Quello di Quello di Le colline hanno gli orchi Stupido Ragazzi Carmela Farà un tiro contro L'imp Ora che devi fanno perf Lo so Ha allineato gli astri E quindi Porca miseria Che bonk Eh sì Sono il re del bonk Anche qui Ma abbiamo Facciato la randella Me li merito tutti io Ragazzi Era apprendista Sì perché facciamo cacare al cazzo Metti Metti tipo una Danno magico serve a Marco Nessuno Marco Non so se facciamo una magica Magari con qualche Cetra sì Vai Cetra soprattutto Cetra Usa Sì Pronto Questa ragazzi No È l'ora Arcaica Arcaica Vuol dire di un anno fa Sì Infatti Cosa botte da orchi Orchi Sì Sì Appunto Ragazzi Devo fare le buzze E' il massimo Posso fare Sì Cioè io ho perso Vite No Ebbene No 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 Ah maledetto C'è Ma voi debole Ma io non faccio più cazzo ragazzi C'è Alice C'è che va a vincere lino contro le maledizioni Ecco poi io vi passo Mi ha tolto tutta la forza Alto Ma lo su internet non è ragione logica Penso che noi esistiamo da quasi tre anni Ragazzi Vedi fa come Peter Griffin È arrivato via bluetooth Capito Ah attenzione Spenzione Drettamente gli occhi A yorki Ma ho vinto la shift Ma ti senti mai in colpa Ma che vuol dire Più tra forza serve a samba Sì E questo qua Prima di passare Alice Passami Sì Intelligenza Nessun Non pensi Sono più intelligente del gruppo Quindi sì Ah Almeno qui hai visto Hai visto Ehi Proprio di fantasia Ah no Non so Mi sa che la devo togliere Perché 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 C'è quello che mi aumenta il talento Che è più importante per me È il tormento della magera Giusto Sì Ma non dovevo usarlo te Alice Scusami Ho cliccato Hai di presente Era l'ultimo slot E ho cliccato sotto Va bene Mi dispiace È proprio un gioco di fantasia Dove tu sei il più intelligente Vedi io sono stupida Eh Ho passato Mio 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 Coglioni Madonna Fuor de marco ragazzi Che faccio Mio 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 Oro usa anche questa Ci ho pensato Sarebbe stato un grave È finito Lasciamo il canale è loro questa non è mia la consapevolezza io scanno nell'occhio scanno nell'occhio la panacea forte calvizia il secondo piano siamo in cantina io brumano non voglio più parlare oh no brumano cosa ho letto vai dal signore un attimo scusa dietro questo qua ma che cazzo non si vedeva era mimetizzato mitemizzato oh c'è pure l'orco temoso non ho sentito male una cosa mia non ti preoccupare allora io c'ho ritardando poi c'ho sinfonia magica ma che cazzo di paura che mi hai fatto si chiama così il chiterraio non si tira fuori il cazzo pensavo niente scusate eh si no dovresti fare le tue cose e non avevo visto che la illusione ah secondo me da lì io 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 thank you io io mi sono già a dormire il lavoro di oggi era lei di oggi ciao davvero buonanotte penso io penso io ti capisco capisco buonanotte buonanotte ciao zappo ciao zappone ciao zappo dove andiamo 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 verso la città in realtà dovremmo andare a prendere questi due santuari guarda la ricchezza e l'era di bronzo che poi sono anche di strada per ah ma non ci sei arrivata no bastardo quindi dovete dare tutti i soldi a me si potete condividerli con me sono il vero compagno nel pieno spirito socialista bulletel oggi era troppo quindi bulletel che cos'è bulletel è un gioco in cui si riempie lo schermo di proiettili che devi schivare in pratica cioè quella è la caratteristica principale tipo eh no un progetto è troppo di nicchia eh no pensa a quello che portava Luca come si chiama eh enter the gungeon ma anche per un certo senso per alcuni boss anche Isaac per alcuni boss madonna che smistiotto incredibile sì io durante l'assemblea istituto una volta a scuola giocavo io non ho le gambe Marco io non ho le gambe dove è rudolf rudolf the red non sarei chiunco cavo indaga di fortuna no lo devo partire da questo e c'ha quello di vetro c'ha il cazzo di vetro lì molto bene ciao Marco ma perché senza concentrazione disperso perché l'ho appena usata tutta disperso una vita è stata persa ragazzi e anche una barba perché adesso guarda 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 che faccio le capriole poi gli faccio questo e quindi wow vedi 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 è chittato ora lui fa questi lo evito la tua possibilità è che gli si rompa l'arma io l'avresti che chiudo è andata non è andata un cazzo ma questo qui fa sempre perfect madonna sorpresa hanno disperso se c'era scritto nel nome che deve essere bravo a suonare ho l'arma di vitro guarda che ho resistito Marco la missa tutta la missa guarda la concentrazione non ce ne va lo so era una battuta questi sono tutti perfetti che poi saranno mancati nelle nostre prossime boss perché Marco la sciaglia di vetro e quando missa vuol dire che gli si rompe sì molto bene Marco hai ancora un muovi bravo sì 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 zitto ma io mi sono chiamato Dado 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 guarda che culo dove è il coso io non volevo chiamarmi Dado ragazzi guarda un attimo qua se c'è su missioni guardami il pisellino io farei una missione per dell'oro accettiamo questa perfetto ah è qua basta missioni basta ok delle tè no dovevo dormire ecco che dovevo fare vai dall'uomo bestia in basso che almeno si fa tutto tanto è livello 0 su parte che sbrotolina è l'unica che ha livello sbrodo sbrodolina sbrodolina babababababab sbrodolina sbrodolina no 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 quello è bene trovate io che no ero vincontri io ignoro l'armatura comunque ah ah l'illusione ragazzi sei pronti a vedere l'amisfatto eri abituato a Voi che non mi fate parlare Scusa Ti prego Quello era quello che volevo fare a te Sì ma le date 40 invece di 30 Andate no Marco E dove vado? Vado verso la congenio della setta La setta? Sì La setta? Di Luxalt Luxalt no Bella giornata Cioè tu fai quanto cammina Dado praticamente No però non mi conviene Cioè vi aspetto No no Ma state di solamente fare un check Sì esatto Su cosa? Ragazzi io non sono stupida Dai prova al limite Ci aumenta di uno il caos Che vuoi che sia Ragazzi lasciatelo fare a me Sì Ragazzi io ve l'ho detto che questo gioco è il contrario Ci stava veramente per aumentare di uno il caos Vabbè stato un problemone Infacile poi pensa Ah io vado da Dieger qua Da Dieger Chi si è la capra? È il lupo Ah ok Come sta Dieger? Bu Sta molto bene E se è stato per il lavoro Oh che cazzo Non ho capito un cazzo di quello che hai detto È stressato per il lavoro Ah Ma perché sei andato da È perché deve farlo lui il check Ah ok Ci si fa fare il lupo? Lo prende tutti Oh è rimasto nel naso È rimasto nel naso Ho colpito da la lince Comunque non prendete quello in mezzo Così faccio quello a dare Ma tanto da quello che abbiamo capito Colpisce comunque tutti quella d'area Ma sono fortissimi regalo Fallito Marco tutto bene Sono incazzato nero basta Anita Anita Cazzo Sbagliato Ah c'è quello sciamone incazzatissimo Che si batteva il bastone Ma lì c'è Scusate Fai muovere Anita C'è prima il pauso Ok se Dove vado? Eh fermati Sì Che poi si fa il cazzo della sera Anzi no vai uno su Vai uno su Ciao Fabione Ma C'è già che una volta l'ho fatta Ancora con i miei piani Siamo sbagliato Perché Ma Che cazzo Vabbè però ne copri I due punti video che vi diverso Vai Sicura? Tranquillo che adesso ne faccio perdere 5 io Ok Ah vogliamo uno caos Meno uno caos Guarda dove è Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì prendiamo a sinistra libera perché accorgere la difesa fisica con la terra ma non poteva il colpo che ignora l'armatura sono stupida e sono stupido marco ha rotto le palle mi fai fare così manca vedete ragazzi quanto è bello che hanno messo le risposte su tutti i canali sottrasciati tutti i canali molto bello però anche a me vediamo come si fa più danni a fragore sbalordimento però non fa quello d'aria che dito secondo me è meglio quell'altro che hai almeno per essere il rigame poi vediamo dopo ok io vorrei andare un attimo a curare marco tu non puoi dire queste cose ho voluto sbocco e basta un culo cioè fate pure voi sono stati mi qui ok dove devo andare buona verso quel punto blu ma io potrei già entrare però non ci siete voi si 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 porti dietro però marco non ha vita ma secondo me che ho 19 di vita comunque me la cavo se no mi traghetta l'ha detto si si sono forte a me una miniera una miniera questa amica mia no il cubo di gelatino no c'è simone il cubo vabbè alla prima pausa messina cantate comunque targhetta del cubo che quello riceve noi targhetto quello al centro sicuro e c'è difesa fisica dicendo da che termine tanto comunque si è scritto faccio anche la nadare non criti per di l'arma ma sì comunque lentissimo il cazzo è lentissimo il cubo verde non lo ammazza però tra fai 11 ruggirò ciao ciccio ma non serve prima che la giuda prima non l'ho usata la concentrazione ragazzi sto memando malice ma che me me sono che vuol dire adesso mi pulisco il culo mentre so successo non era un me ma che vuol dire non capisco questo questa è ciò che dice uno che non l'ha capito ecco non l'avessi capito però non ho capito ancora sì non vuole qualcuno vuoi tu e tu ce l'hai già ma non era marco perché io ce l'ho già no faccio scarto così non li avrai anche prima ma poter ripassarli cretino no non potevo ripassarli ce l'ho scarto e lo raccolti potuto è proprio dover dai a inventario no ma sbrattato è un cubo di gelatina no ti prego non mi abbracciare bellissimo che rimangono nelle frecce me coglioni a dire a zic o no non voglio ti prego di smetterla me la cavo 25 17 comunque zil sberto perché lì c'è così livellata e non capito giusto che ha preso lei l'ho ispirata io ce l'ho già ho preso il coso in quel momento marco prenditi questo cappello ma non ce l'avevo dice l'ho già allora lo vendo e volevo darlo così lo vedeva lì che prende più soldo poi ricordatemi di darvi il denaro ho preso la sta in santuario al santuario livellato e quindi che ti riparo imbarcazioni siamo mai anche arrivate le bar che probabilmente le barche quella famosa in quella famosa campagna a 2 ho avuto un flashback in Vietnam in cui ho incontrato il kraken ed è stato orrendo molto bene ricordo colpisco no no scala forza posso te adesso si posso colpisco colpisco no no ma por perché la porta dovrebbe farmi del danno marco tranquilli cazzo ma prendi quello in mezzo no ma prende marco e no io ti prego di smetterla ho della barba no se no no ma quel cubo è il problema va bene in momenti che non attacca a me sentiamo un vaca culo ti prego no vabbè va bene ma ma anche in parlarne e non lo accadono allora io sarei l'erba che mi cura dal veleno abilità raccogli erbe ha scritto alice questo qui trenale poi faccio un libro e questo quello che dicono quando usano le tue erbe anche male oppure fatta la trenna le a fa cura e la pranzia andiamo possiamo fare un riposo di gruppo hanno fatto io ma siete ancora velenosi infatti lì perché non non frega non frega nessuno va pronto no c'è limpid in bastardo pure qualcos'altro vabbè no 1 vabbè possono ancora parlare dopo che prendono l'erba che fornisce no schiuma la bocca lasciatelo a me limp in mezzo agli occhi ma è stato in mezzo al pezzo ma che cazzo pugno un triplo sarto carpiato per darmi un buco vai dato finisci io ho capito il triplo sarto carpiato sì 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 sarto fortissimo ma non puoi giocare cioè parlare prima non stavo a parlare ora invece sei guarito sì ma tra quanto finisce sta roba dimmi non lasciatemi stare ma sta dicendo si sta inventando una lingua tutta sua giuro che anglosassone è schivato no no i soldi devi prendere dato che ha il moltiplicatore grazie gambo comunque ti prendo nooo ti prendo io così ne prendo di più e poi ricorda di dopo fai le cose babbo sono così stronzo bravo babbo che cazzo il sarto carpiato sembra una classe combinata di dnd ragazzi potrei scrivere il prossimo manuale di dnd come siamo qual è la sesta versione cosa e ho trovato un'erba ragazzi mi scrive del chat cosa ha detto alice per favore ragazzi non state capendo quello che sto dicendo nooo nooo oggi ho stato per avere un ictus si sto per avere un ictus questa è l'unica cosa perché la mia testa ha senso se puoi se puoi? se puoi? se puoi ho detto ma io l'ho usata ma non ero più avvenato va bene vabbè ragazzi sono stupendo no lì se io sono preoccupato ah è l'unica l'unica spiegazione vai faccio io wow che triccino bravissimo è pronto? c'è il boss eh io non ho ah forse ho la barba eh usala se puoi che noio che barba che barba che noio aspetta anche quest'ottopie che non l'ho usato prima usa durante il combattimento per ottenere 25 allusione potrei ottenere più 25 allusione erba dell'eremita ma è per sempre eh non lo so non riesco a capire dov'è che si vede ah può cosa è che dice? usa questa erba durante il viaggio per non essere individuabile usalo durante il combattimento per ottenere più 25 anni ma è durante il combattimento non perenne ma stanno sbrattando tutti quanti se c'è lo deve essere il cazzo è ora lei vai attaccare con la sinistra ah allora la uso adesso oppure ma usa la usola ma io non rischiare che che è quella a mezzo ah bui con la centro io con la sinistra eh ma non faccio un cazzo di dan mi scema le mani il favore no eh sì Marco tutto tutto a posto sì danni quella sinistra bravo natanta no dano ma dato è confuso ti prego di non farmi il dolore ok se avrei quale in mezzo però non faccio un cazzo di danni sì sì sono il tuo personaggio sotto è terrificante perché sembra che tu stia sbrattando sangue e faccio quella d'area se prova va incoraggiato molto bene per favore no i ragazzi sono ballerino ronaldo per confugio si sia l'inizismo con the water è vero no basta sull'attività concentrazione ragazzo davanti per i miei ora prende marco 18 anni per che sono boromir io ecco tutto bene sono boromir e sembra umano davvero vabbè raccolgo un po' in caso della pasta marco ed io mi lascio io ho deciso che devo usare l'arco più cinque danno contro volante rispetto al tuo com'è allora mi fa fa molti più danni fisici sparo tiro pesante distanze di sicurezza però mi dà un punto in meno di allusione e danno contro bestie forse alice vabbè grazie è quella che volevo ma la che più grande di te perdono ho dato questo body shaming no arco quello di come si chiama il gigante di darsos quello sciacolo e di gog no dato che culo ma che culo c'è 7 per cento sentito a qualcuno è più talentoso no marco ha detto la parola cazzo è detto non mi vedi è integrato l'autore dicendo cazzo no ignoto canaglia dannazio a questi ma lontanissimo maride no era parigi poi molto bene carmela indica c'è indica c'era via no ecco no a sogno carmela perdonatemi ma vado e ma da sotto che così facciamo anche lo sciamano e livellavamo ma io alicio quattro di vado verso lo sciamano no alice prende solo te che palle si recupero un hp marco cosa stai per dire scusa la parola con la c parole brutte con la c coglione retino per cielo non lo so c'è ma dai come di pancia non lo so perché ci sono stanno scendendo delle cose strane il mio corpo ultimamente pronto come non si no alice sarà bloccato da me stessi dicendo anche un pancia oddio interrogativo d'artium marco e quindi arti e non so se andare a buzz mutter e raga se ci crepo piango io votivo mettiamo attacca prima la pecia marco allito ragazzi massacriamoli per piacere me coglioni nel arco nuovo questo l'arco grande fatti vista reggianto con l'arco a vita qualità dagli buono ti manca il cappellino marco marco e pianto no bene ma lì c'è questo che mi servirebbe ad alice però ma a sì ho gli occhi però no no mi piace più l'arco facciano danni fisici ma c'è l'arco cosa non ho capito ragazzo 19 mila 999 pacchetti persi stasera twitch devastante molto bene aspetta bastone della fortuna lo vendiamo com'è che si vende così la cosa caccia vecchio lo vendiamo la tunica la vendiamo la prima questo gioco tra probabilistica segnalo il gioco acquista no enka è triccio è triccio triccio a volte scatta anche il gioco perché ottimizzato con il buco del culo però è twitch sto perdendo un sacco di pacchetti servizi posso riposare e se faccio locanda mi riposo giusto sì a piccola quantità però non ti serve lì 40 di vita su 53 ma io vi devo dare i soldi rega però se te lo vabbè poi vediamo ripetendo qualcosa faccio la locanda così recupero esatto è a posto easy metti che facevi due non arriva via woodsmoke allora intanto i soldi è 277 diviso 3 ma guarda secondo me conviene che ti ritieni idee poi se qualcuno servono gli passi intanto mercato c'è un aiuto rotto che non ti serve un archibujo che ti servirebbe ma meglio il viuto che hai bastone del fulmine che non serva a nessuno niente per me non c'è un cazzo prendiamoci le pipe regali vive l'evoluzione l'ho presa tipo in osso è diffusora è diffusora c'è un cazzo per me regale è tutta roba per voi ma retani anche per me barba c'è marco che è fortunato cos'è che c'è il culo allora mercato mi prendo la pipa e ok no 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 ma ti incaricate le basso tra l'altro non te la testa no 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 cristino cristino crostino avveno è il gender swap sta facendo la cascata della roba marco ti casca la vita ok mi passano i soldi per riposare no passami dei soldi quanti ne vuoi no 50 16 da ora 16 quindi mi saranno 9 bella giornata io voglio provare con me conviene un attimo andare a da ad orton darti o no martio melancolatissimo è perché c'era un punto interrogativo massimo sti cazzi cazzo non ho vendato ecco venditi tentato provviste perdute perdute delle te cosa ma quindi andiamo parigi si cazzo fa il lato defunto questa pianta ma li dirà coloro che la utilizzo non impedirà la morte per un breve lasso di tempo ma si i black lotus ma vai la nel coso giallo perché l'eroe erano già il tramite mir quest anni this are the things that the pirate needs dado si è solo io si fa sera si c'è un attimo verso nord te che vorresti dare qualcosa interessante è vero c'è campo di erbe vado al campo di erbe bella giornata disgustoso guarda la guarda usala no molto bene mi tolgo agli�� della firma perché sto schiantato a cazzo battaglietto estampino abbastanza ottimo per un sant'ora del sangue devo vola aveva verso Radice oppure siרי in vabbè intanto andiamo catacombe andiamo ci fanno? no livello 3 livello 3 ci attacchiamo solamente io sono livello 3 però ma prima era solo Alice a livello 1 vai non mi fa sono troppo distanti? eh mi so che palle vabbè adesso arriviamo alla notte adesso ci arriviamo ma almeno c'è una vita extra tanto basta che sia nei paraggi e poi lo puoi trascinare dentro minchia tormento ma che culo Marco qualcuno ti ha fatto pompino Marco mentre camminavi? per caso hai trovato un'erba della della megera? hai trovato concentrazione? sono fichissimo ma concentrazione dà appunto esperienza a te cretino stupido si fa? si? volete prima fare il golem? no 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 il mercante veneto eeeh va bene il tuo moc fortissimo si ma guarda quanto costa non c'è niente per me c'è il bastone della fortuna ma no regà ma che figo questo il mulo di Farul oh c'è questo che mi da no vabbè volete qualcosa di te? eh no l'armatura di neve ma non so se ha senso secondo voi è utile il mulo di Farul? contro il boss forse uno lo prenderei vai vai c'è dei soldi ma poi perché era il mercante veneto quello lì? è sempre stato il mercante veneto proprio dall'inizio perché perché Iroh ha detto una cosa tipo il negoziante goblin io avevo capito il mercante veneto non lo so prende l'armatura di neve ha la furtività no però questo non mi da più no sì sì molto bene sembra abitata pesca pochissima il decittino di hit decittino di hit è vero bello hit Marco da ora in poi non lo guarderò mai più perché detto che è bello perché perché questo audio nei confronti di ciò che piace a me Marco è così è basso poi è il destino ma questo qui c'ha sei armatura dappertutto c'è ancora cosa che ignora no posso solo fare tiro pesante non è che teni quando se non ti avete l'arma rompersi si vai toto sbonca 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 spank mazza con che rotazione no no non attaccare me dio la marca si però non attacca mai capito ma attacca me eh vabbè stavolo con più vita te lo meriti ma no se mi si rompe per un danno piango sai che me vuole sarebbe stato molto bello pazza copriato dell'apprendista che è intelligente qui Marco nessuno ciao Alidas ciao Alidas ciao Alidas buonasera buonasera come 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 Bongo Cat Alidas è un pro player a fosmofobia tipo mi lascia le tasse a posare le aia le aia ma questo tipo è tutto bardato attaccate la magera fottiti brutta stronza pensavo di cessare attaccate la magera eh fottiti oh ragazzi mi sono persa e che attacco il pipistrello dispersa ma io togliere te con le linea magera come non ho dato l'attacco al pipistrello anche abbiamo detto che qui è tutto al contrario tutto al contrario tocca me tocca me tocca me aha e poi ma il marco fatti valere robbo goblin vaccinato proprio il no 8 pogba pogboom alicia non si è equipaggiata oh sì sì brava alice brava molto buona sì sì è uguale a quello che ho già mettilo sono proprio il tank ma dato il tank carmella c'è brutto tempo hai visto rega che da bastardo ha avuto che da bastardo ho avuto mi è stato luca per un attimo bastardo ho detto ciao buona bello buonanotte ciao buona buonanotte buon lavoro domani che bravo li hai dispersi ora non sono dove sono che cazzo ti è disperso questo porca di seri ok ok era questo no basta 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 oia vabbè muore dai molto bene mi hai fatto un cazzo comunque ah perché c'ha 6 ragazzi questo colpo lo dedico a voi ma che poi è flat come cosa cioè nel senso io al massimo faccio 20 di danno con quell'attacco ed esattamente mi ha tolto 6 cioè è veramente una pepita con questo ci può senza tre che sarà ben brutto e allora a te Dado perché fai le cose da strazzino io prendo le distanze dopo le 11 in punto smette di bufferare è la è la scimmietta da sotto che si è ripresa e quindi fa meno 2 salute massimo immunità il veneno immunità le maledizioni buonissima le prende Dado questa prendo io no ma se sei il tank no mi dà vita in meno no no copaggio io vai molto buona già si è sistema tutto è normale che stiamo facendo un gioco dove non è che sia così tanto importante avere degli fps sto perdendo panchetti quindi ma andiamo a Parigi sì a Parigi direi uno va al punto interrogativo e l'altro a Parigi eh no ma io devo andare a Parigi comunque perché c'è da vendere un sacco di roba no c'è il main player guardi di Kazeza ma c'è scritto c'è fronte che ha detto di nix tanto comunque dobbiamo andare in alto destra e vabbè quanta roba servizi io faccio perché sto vedendo le nuvole scusa mi passi un po' di soldi per la meditazione sì fatti te ne serviranno ma le giorni che meditare ma non sono abbastanza sono troppo non devo meditare ragione troppo lontano comunque per passare cazzo vediamo se c'è al mercato qualcosa di carino però qualità a caso 311 non capisco prendere la pipa nuova ma costa troppo quindi la prende solamente uno ma sono tutte robe che mi hanno ah il cappello d'esploratore mi servirebbe 24 riesci a prendermi il cappello d'esploratore eh non è per tutti uguale il rob da quello mi ricordo no davvero capiamo che palle io ho qualcosa da poter vendere no lo scudo posso vendere gli stivali vecchi eh no non ci arriverò mai questo 24 ma perché non ho la piuma ah perché ho la piuma o la conchiglia ma meglio la conchiglia vabbè ragazzi S ho capito che è successo aspetta ti faccio vedere perché non mi fa scorre non ti faccio vedere ma prego bravissimo non mi fa più muovere ma neanche col ma che bello non mi fa neanche premere esc davvero ho sottrezzato ho sottrezzato tutto no no ma io vedo le robe muoversi me le fa selezionare è un banchino posso solo finire il turno molto bene ma non vuoi finire il turno ma non vuoi finire il turno prova dal tabari cosa ho fatto voglio aprire un attimo a chiudere la cosa e riavviarla ti salva ti salva eh non so quando ho salvato l'ultima volta allora prova dai salva ed esce ecco qua salva ed esce il gioco è salvato all'inizio di ogni turno ok esce perdere i progressi si no carica partida riavvia il gioco va bene oh veramente ragazzi intanto carico il gioco anche ci hai provato come si giocasse poi capito ehi ciao Mel ciao Amelia quando sono usciti dalle catacombe non ti hanno lasciato la porta aperta si si è rimasto incastrato là dentro let me out cioè ti provo a fiarlo in in DS9 così per il gruppo non in Vulcan non c'è Vulcan in Vulcan è Rainbow Six no anche questo ah no era Hades che è avviabile con Vulcan eh si Marco era proprio Hades allora hai creato il cazzino si Marco non pronunciare il mio nome in quella maniera please famiglia mi sta caricando all'infinito quant'altro vede un mulino connessione fallita fallito fallito maledetta connessione e quindi non si può fare neanche mai fa entrare comunque Marco eh adesso sono entrata adesso sono entrata proviamo oh ok procedì arti o meglio prendo le distanze gambette 0 5 io prendo totalmente le distanze arti o non qua come come no 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 fermi tutti io prendo le distanze io fermi tutti cosa sta accadendo molta paura io devo sapere intanto produciranno secondo tra l'altro ecco prima ho fatto 4 la fa 3 manco posso entrare poi marlon no tranquilli sono un bembe nostro sì unisai joke dato ho bisogno di un po' di soldi non so ne servono 48 e non erano precisi ma il perdonami ma no hai chiesto il divorzio alla chiesa protestante di due piedi dato me ne servono 48 perché devo arrivare a 55 ma come eh me ne vede proprio 48 ne avevo 7 più 48 fa 55 per questo me ne servono 48 eh se vede 59 eh vedi pippo eh vede me so no Fabio io non lo farei fossi in te velozzo poi ti sfonda dalla porta come che come che si vende la fam devi chiederlo al mercante vendi 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 voglio la lore ma io non so se voglio la lore di gambetta 05 ragazzi no nemmeno io partiamo dal presupposto è dicibile questa lore cioè è esternabile ad un pubblico anche se insibile appena mi carica il cell te la dico ma così che cazzo faccio la ma wait adesso posso comprare le cose devi anche vendere c'è roba da vendere sì no in caps dice ragazzi ma che cazzo fate no non lo so io non ho visto artiamo rispondere così tra l'altro in caps che cazzo fate apposta sì è mel bene non lo so mel non in live non in live però lo intendo sei sicuro è sì scrivimelo vabbè allora mercato facciamo così au forza au pietra di no io mi sono trattenuto da spammarti italianesi in questo periodo io ti ho avvertito ah no ma se c'entrano italianesi va bene così c'entrano sempre i trama italianesi con mel è una pietra di sicurezza da asportarsi immediatamente una città vicina ma caro prezzo penalizzazione di 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 le statistiche meno uno boia però è fortissimo in realtà non avevo una sega da vendere però c'è qualcosa che vi interessa no io ho già comprato dato ormai è un uomo provato dal mio cringe beh i trama italianesi penso che porterebbero allo stremo qualsiasi mente suicciana in privato se è bannabile eh sì forse ma io ho finito i soldi per darli a voi io vi odio veramente ma mi hai dato dei soldi sì sì ecco perché ne avevo così tanti però vedi li ho spesi tutti sono serviti vedi ho preso un cappello e ho riposato io ho ancora il cappello di babbo natale quindi so beh è facile invece sono triste ma lo dici te ma che se ne ha peggio dirlo attenzione scala in cervello scala in cervello usa la concentrazione in cervello nulla nulla non sono così intelligente come pensavo eh no Marco guarda he told the sunset about you o he the gifted e poi ne riparliamo ho bevuto la Coca Cola ragazzi ho bevuto la Coca Cola cioè ma che mica cioè mica è alcol adesso fosse quella la battuta andiamo alla non lo so qual è qual è c'è andiamo a livello 5 e quindi andiamo tipo al tizietto qui bardo d'ossa cola questo sì però non vive in corso sto qua ho scoperto il pozzo d'incanto sì è un buono short a te a me ti hai bevuto esco cola adesso capisco la parte antide la cazzo non esco cola muoviti e dove vado verso il bardo d'ossa guarda stiamo in una casella eh sì è vero Marco che lento ecco ecco il cervello di nuovo molto bene Marco ma basta marimma thailandese veramente io devo chiamare l'autorità ma poi che titoli sono scusa told the sunset about you cioè pure sbagliato in inglese capito è sbagliato Marco tocca no vado qua ma non aspettatevi vogliamo andare dalla spada solo che scala il cervello forse mai se mi ritiro ma andiamo arrivo va beh arriva il cervello no Marco comunque se abbiamo 19% di pacchetti persi in totale nella live bene grazie team un salutone qui non c'è più nessuno per cui eh la tanto dobbiamo comunque andare verso di qua anche sì c'è la spada nel pisello quindi tu vuoi la spada nel pisello noi dove andiamo? a destra facciamo il bandito sì sì che giro lungo che hai fatto era una bella giornata oh no cazzo beh non era previsto questo soppiatelo cazzo ma hanno tutti armatura target del colosso io penso gli hai i minion colosso? sì sì vabbè non attaccare me quello sono me e attacco lui ah ma io non c'entravo un cazzo e sto preso in mirando deboli forza troia eh che gli dico colosso colosso dici? eh gli altri ci penso io bene ragazzi cambiatemi no no eh mica che sbocco che sbocco la smettete ah ho fatto le vandoschi non penso le vandoschi bene non quello è rimasto con i miei ragazzi sì è stato un falso finale sì pure c'è la salla ho avuto l'achievement rock'n'roll rock'n'roll no non rock'n'roll bellissimo rock'n'roll passa amala no passa intera scala intelligenza raccogli lo 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 nel cervello no no mi si è persa la connessione vero? si esiste a darsi a disconnesso c'è scritto no anche crasti carica partita ma perché ragazzi la connessione non è stabile ogni tanto ha delle perdite dei droppini sì ma tanti vero che ruolo non ironico mel ripeti i suoi gusti è una cazzo di rocca con un buco veramente tremendo che ruolo questa partita di oggi è un dramma tailandese ragazzi mi gioco che mi sia frizzato sono molto contenta e poi gigalit sono delle rocce più grandi ragazzi ho un'idea fino alle 30 si guarda il film documentale su Totti ah pensavo un roguerro la fermo che non faceva niente quello si chiama mi chiamo Francesco Totti non la serie speravo di morire prima si chiama davvero così? la serie si ah perché era un cartellone uno striscione che c'era al giorno del suo ritiro la prima diceva speravo di morire prima ho curioso adesso guarderò il dramma tailandese divertiti Alidas divertiti allora lo sai che sono no per tutti i pokemon di quinta mi diso ragazzi è vero secondo me ad Alidas piacciono poi secondo me diventi best friend di Mel e Artie ma quanto pare adesso? sei ti fa unire Alisha? sei ancora frizzato mi dito o volete fare a chiacchiere gli ultimi 10 minuti? dai continuiamo se ci si riesce si sta diventando is coming rilascio corri si ci sono dammi il totale che non faccio tutto aia sta succedendo ragazzi sta accadendo io come come dado e come unicorgi prendo totalmente le distanze Alidas è colpa nostra io ragazzi vi ricordo che comunque 05 è l'anno di nascita ciao dicessi qualcos'altro per sfigare no ma siamo indietro dobbiamo rifare il bandito vai Alice però che mi ha fatto 3 non ci arriva più sai tu sei il prossimo mi prendo totalmente entri in distanza questa indecisa oh no molto bene oh no un altro 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 non ricordo diverso il test non sono così male dai ma di che stiamo parlando Merlo non ho ancora capito si non sanno ora come si rompe io è sempre il colosso dato che non è il colosso sbagliato target a quanto pare oh ti prego non lo ammazzavo comunque è rimasto fermissimo io no eh mi faccio un cazzo cazzo che pugicata ah ma non ci arriva dall'altro Mertens ho detto a parte sa ragazzi posso pagare delle lezioni d'inglese asti tailandese per cortesia a parte che non so non è orribile ma anche tutto ciò che ho sbagliato al mondo ma il fatto che tu abbia visto qualcosa di totalmente sbagliato al mondo mi preoccupa io veramente sono solidale con tua madre che non vuole che tu riguardi ma ci credo ma ci credo cioè chi ha la corsa io ma buttano perché non mi interessa hanno dei nomi veramente tremendi sì sì ma anche i nomignoli che stiano dagli attori non è che siamo tanto ma perché voi sapete anche i nomignoli non so se lo voglio sì perché mi diceva il tempo fa cerchio ragazzi io ci provo ma ho dato questa intelligenza sicuramente te l'hai più fortunato di me sono tipo cervelli dato ho dato in un per cento o nel sette sono tipo cervelli ma perché stai facendo sta cosa non spieghi che bello è sicuramente valza la pena perché di solito è proprio il forzutto che va a scavare le cose d'intelligente bella giornata bella giornata infatti è schifo sì il congegno della tetta il congegno della setta che la forza farò io questo è quello della Lola è quello della Lola attenzione sì sì sono le scarpe quando iniziate a giocare a rock and trick con noi l'apprendista clown io recupero la mia vita qui ciao comunque si muove sempre poco certo che la tua mamma fa veramente rocchetto in una qualità superiore l'anno l'altro che vede dove è quell'altro io lo dico alicia io sono là dietro vai dato prego ma non l'hai rifatto e non me lo faceva rifare ragazzi mi preoccupateci ti penso io no 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 più uno caos 0% ragazzi c'è qualcosa di molto sbagliato metti il flagello prova ragazzi adesso dovreste venire tutti verso di me facciamo una bella ma no si faceva il parroco ma guarda sopra c'è un accampamento ma poiché male uccello di sangue no 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 non voglio l'uccello di sangue colore quando si rompe il freno no 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 sono stata male io per voi ragazzi io recupero vita sono un click aspetto molto bene nessuno che tra sta marco ma infatti ma d'aglio che cos'era bella giornata senti tutti un attimo che cosa è ruttato ah ok ma cosa ti vuoi delle cose bellissime ma le hai fatte inciampare Alice no questo momento è rinari aia la barba Alice se una signorina non è la barba e invece oh crimine oh cazzo la buttana la barba oh rabbia ah è vera vorrebbe una barba la barba ma ragazzi ma che cattiveria ma perché oh Alice cd il bandito borsaiolo volevo dire scusami ha voluto il capitano dei bambini prendere distanza no dovevi fare il capitale quell'altro quello eh ma eh ma eh ma eh ma eh ma eh ho capito però almeno non faceva il suo turno frantumare me coglioni da dove sempre molto divertente sto maledetto infame questa era ufa beh te l'hai detto eh cadito questa era ufa ufa bebbela oh Alice ti piace allora wait oh si parca puttana armatura di gruppo che cazzo è armatura di gruppo eh io non la voglio passa sei veramente una merda eh perché c'è già una cosa utile io non la voglio oh no si la voglio la vuoi te eh è consapevolezza vabbè ma Dado hai sette barbe divine ma passamene una Alice eh è la mia quella che ho preso il borseggiatore perché era tua perché me l'ha rubata Alice chi l'ha usata c'è andata via non posso darte non sono andata via quello lì è Marco eh allora sei troppo lontano comunque allora aspetta proviamo a vedere perfetto sanguinamento proviamo ah ma che verso terribile è dato erano spatici ah ok scusami allora non verso carino a ispezione del corpo e hai trovato danari sì no vengono verso di voi dove andiamo andiamo verso il tipo sotto e poi finiamo la live un capitale dice che dice che cazzo ne sei scinzato di Nelno sversa vedremo mi viene permesso di scrivere una fanficchia su Marco Marco e da tu io non ti concedo i miei diritti di immagini no infatti frantumare è frantumato tiriti tiriti bravo andato a puoi darmi la barba che mi sento in ansia Alice se non ti vogliamo per un po' così gli occhiali forse è meglio che smetti di farla a ballare è la la spada mi è finita sugli occhiali è troppo lontano Alice bisogna andare verso allora andiamo a destra dall'ob goblin e poi stacchiamo ma che cazzo ma devi darmi la barba stupido idiota grazie strozzati grazie sì sarò molto contenta oh l'occhio 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 è mio non ho trovato niente raga che tristezza bene che tristezza ma se vado da sotto andiamo da sotto non mi prenda no no infatti non faccio niente usa la barba questo esatto e poi easy peasy finisco andiamo su qua ho detto che devo non che ho tempo bello come se facessi qualcosa versata no la stavo chiamando e ora si che sta andando a un frame bene si io prendo l'uccello di sangue ma ti ha prosciugato meno vita davvero per un anno che devi fare i disegni di tutti gli altri per non parlai di un'altra cosa per la quale avremmo metteremo che pagato metteremo pagato è successo è successo è successo è finalmente successo un paraggio senza niente no è vero è vero no davvero ad otterrarmi ad otterrarmi deve ad otterrarsi ad otterrarsi sotterarmi marco cercello la tonica dell'apprendista molto bene marco cercello ragazzi che bello for the king questo dovete parlare ma scusate ma fatti cazzi tu no hank dobbiamo pagarla per dei servizi alla comunità si amici raga noi vi si fa il saluto si no no ma non si fa il saluto cosa hai capito ah scusate alziamo il pugno allora va bene allora ore ore o fare tipo wings ma domani nella mia enchanted sono stanca ragazzi alice sei per caso stanca oggi ho imparato un nuovo verbo ed è smarmellare e ho il cervello smarmellato alice io ti devo dire una cosa non è un verbo vero secondo me è un verbo vero finisce per are è prima coniugazione are di marco non dite un cazzo scusate alice ma è una cosa che dicono elementari il problema è che con marco ci siamo abituate le cazzate capito ma questo qui ragazzi era una cosa dicono elementari che poi non ha neanche senso marco io ho fatto elementari normali però a me la maestra ha insegnato elementari questa cosa ragazzi si 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 bimbi noi vi saluta si fa del grazie hai visto boris si no io si che l'ho visto io non guardo le cose dei stream guarda boris va bene ringraziamo artium e anche per l'ere sub abba per i beat doye per l'are sub e da chi si va ciao ma come ciao ma che si fa vado a controllare un attimo anche io devo andare a controllare si va del grazie no va belgrado si va ragazzi a salutare i cross stantain cross oppure andiamo da breaking dab come volete sennò c'è d'ala torna anche chi la patata chi ah la patata voi non conoscete la patata si 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 ci ha fatto andare luca a scoprirla ma entrai da deb dai trafica deb va bene sennò c'è anche quello che ha fatto in scherda che ha sempre pochi attori dove volete andare dite raga pronto no raga dico a voi dove volete andare ah da deb io siamo gli unici canali italiani che fanno breaking e si for the king quindi si dai ma brb fk un attimo allora andiamo da quello che ha fatto in scherda che ha sempre pochi spettatori oppure da crosta quanto tempo ne andiamo da crosta un bel po' andiamo da crosta dai andiamo da crosta si saluta bimbi fa il crostone un abbraccio e un bacio e un bacino però da distanza ragazzi che c'è il covid secondo di pcm porco sì ciao ragazzi ciao